Ci saranno tante iniziative, tante attrattività per far sì che questo borgo venga di nuovo animato dalla presenza di tante persone, così come è successo nelle ultime edizioni. Avremo tre giornate sul territorio con questi mercatini natali che daranno la possibilità a tutti di poter usufruire di quelli che sono gli stand presenti sul territorio, c'è della Enove Astronomia e avremo la possibilità di gustare un borgo, un meraviglioso borgo, un borgo di Sirungherina da tutti i punti di vista con gli abbellimenti e gli addobbi che hanno realizzato l'associazione. Una novità di quest'anno sarà un set fotografico di Babbo Natale a cura di una fotografa professionista dove i bambini potranno creare i loro lavoretti e giocare insieme, nel frattempo regalarsi un ricordo per questo Natale. All'interno del mercatino ci saranno numerosi spettacoli fissi come ad esempio il teatro di Burattini, le sculture di ghiaccio a cura del maestro Francesco Falasconi e numerosi intrattenimenti itineranti come ad esempio gli zampognari del Monte Filtro. Il 3 dicembre, domenica 3 dicembre, da non perdersi, è un concerto di una band di ragazzine dagli 11 ai 16 anni, diretto dal maestro Gabriele Manocchi. Inoltre sarà riconfermata anche quest'anno una via dedicata alle scuole in cui i bambini delle scuole di Coglialmetauro potranno dobbare degli alberi a loro dedicati. Abbiamo organizzato tre raduni, questi raduni toccheranno i nostri burghi, il 26 novembre ci sarà il Giro Stracco in collaborazione con i Mugli Stracchi e la Proloco di Saltara, il 3 dicembre ci sarà Babbo Natale in macchina sportiva in collaborazione con Motori con Gusto, il Comune di Tre Roverische e i Lacli di Montebello. L'8 dicembre ci sarà Babbo Natale in Fiat 500 in collaborazione con Fiat 500 Club Italia Peso Rubino e la Proloco di Montemaggiore.